Il grande giorno è finalmente arrivato. Mi avete conosciuta e vista per tutti questi anni sempre e solo con gli occhiali da vista. Ma finalmente ho preso una grandissima decisione che mi cambierà completamente la vita. Anzi, che già mi ha cambiato completamente la vita. E posso dirvi che per la prima volta, da oggi in poi, ci sarà una nuovissima Martina. E voilà! Una Martina completamente nuova come non avete mai visto per tutti questi anni. E ormai parliamo più di cinque anni, ragazzi. Quindi, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video, ragazzuoli e ragazzuole. Oggi un video molto particolare, diversissimo dal solito e anche molto importante per me. Come avrete benissimo capito dall'intere, comunque anche adesso, mi sono operata ufficialmente agli occhi. Infatti, come vedete, non porto più i miei occhiali da vista che mi hanno accompagnato praticamente per almeno sette anni. Perché questa montatura non l'ho mai più cambiata perché era l'unica che mi piaceva. E adesso, invece, sono senza occhiali, completamente libera da ogni tipo di rottura di palle. Dico così, ragazzi, perché per chi, ovviamente, porta gli occhiali e per chi li ha portati per tantissimo tempo come me, io vi parlo che li ho portati per ben 14 anni, vi posso dire che gli occhiali stavano cominciando a pesarmi abbastanza. Sia a livello di comodità, di praticità, anche magari con i classici dolori dietro l'orecchio, magari sul naso. O magari ero abbastanza limitata da fare diverse cose, come per esempio magari andare al mare, non vedere nulla, andare magari alle giostre a divertirmi. O magari d'inverno con gli occhiali che si appannavano costantemente con l'acqua della pioggia che cadeva sulle lenti. Quindi, insomma, ragazzi, mi ero veramente stufata a un livello estremo. Quindi da lì ho capito che dovevo prendere una decisione molto importante per me stessa, una decisione a cui ci ho messo un po' di tempo prima di prenderla, perché ovviamente parliamo comunque di un intervento abbastanza importante e delicato, perché comunque gli occhi, ragazzi, sono una parte fondamentale per noi esseri umani, direi anche abbastanza normale avere ovviamente un pochettino di ansia. Ma delle volte bisogna avere il coraggio di prendere una decisione e cercare di fare quella cosa, perché magari sentiamo dentro noi stessi che è una cosa giusta per noi. E in questo caso, per me, è stato proprio così. Ma adesso venite con me che vi porto in alcune riprese che ho fatto prima e il giorno dell'operazione. Andiamo! Venerdì 14 aprile arrivo finalmente in clinica. E da qui inizio a fare una serie di controlli per i miei occhi, per poi passare a conoscere il dottore che mi avrebbe operata e fare ovviamente anche ulteriori controlli. Qui sono iniziati controlli più specifici insieme al dottore, dove chiaramente avrebbe guardato i miei occhi alla perfezione, quindi come per esempio la cornea, la retina, l'interno dell'occhio, capire quanto vedessi, quanto non vedessi, per chiaramente andare a capire se i miei occhi avrebbero retto un intervento simile e chiaramente capire se fossi stata idonea o meno. Beh sì, lo so cosa stai pensando. Che sono una gran gnocca anche con questi occhiali. Ebbene sì, lo so. Una volta finiti questi controlli, il dottore mi dà una notizia bellissima, che è stata ovviamente quella che io ero idonea al 100% per effettuare l'intervento. E lì ragazzi ero di una felicità che non vi posso minimamente descrivere. Di conseguenza poi abbiamo fissato un altro appuntamento che sarebbe stato l'appuntamento finale decisivo per l'intervento. E ora vi porto con me. Ragazzi, mi sto dirigendo alla clinica Vista Vision per dire finalmente addio ai miei occhiali. Mi sto andando qui sotto, ma questo è un altro dettaglio, quindi andiamo. Ed eccomi arrivati in clinica per appunto effettuare l'operazione. Mercoledì 19 aprile. Avevo un'ansia veramente indescrivibile, ma allo stesso tempo ero stracontenta perché non vedevo l'ora di effettuare l'operazione. Qui è arrivato il fatidico momento di quando mi chiamano per recarmi in sala operatoria. E qui ragazzi non vi nego che avevo un'ansia veramente assurda. Qui ero un pochettino in ansia, come potete vedere mi stavo scaldando la gamba perché io sono una persona molto ansiogena e in realtà non vedevo l'ora di fare l'intervento. Qui invece è arrivato il momento di appunto andare a mettere le goccioline anestetizzanti per gli occhi che avrebbero comunque reso l'intervento completamente indolore, levando completamente la sensibilità all'occhio. Qui ragazzi sono arrivata nella prima sala operatoria con il primo laser perché l'intervento si suddivideva in due parti, ovvero c'erano due saloperatorie con due laser differenti. Il primo laser che sono appunto andato a fare è quello che vedete qui in questo video, dove ovviamente l'obiettivo di questo laser era quello di andare ad incidere appunto la mia corna per far sì che poi si aprisse. So che sembra una cosa un po' particolare, ma vi assicuro che in realtà l'intervento è durato veramente pochissimo. Questo laser sarà durato credo un massimo di 10 secondi per occhio, quindi è più il tempo di preparazione che il tempo del laser. Chiaramente tutto completamente indolore. E il primo step del laser era stato effettuato con successo. E diciamo che da lì in poi avevo un leggerino mal di testa, e questo è anche dovuto al fatto che ovviamente una volta che la corna viene comunque incisa ed aperta, la vista diventa leggermente offuscata e annebbiata. Una sensazione comunque del tutto normale, vista e considerato che poi sarei dovuta andare nella seconda sala operatoria per andare ad effettuare l'ultimo laser definitivo che avrebbe curato i miei effetti visivi. Qui appunto una volta terminato il primo laser mi fanno alzare delicatamente, anche perché avevo comunque la vista leggermente annebbiata e offuscata, e quindi avevo un leggero, diciamo, giramento di testa. Una sensazione del tutto normale. In ogni caso qua appunto mi portano verso la seconda sala operatore, che è appunto l'ultima, dove appunto c'è il laser, quello definitivo, che mi avrebbe appunto curato i miei difetti visivi. Un laser diciamo un po' più particolare, quindi magari alcune scene eviterò di farvele vedere per evitare magari di fare impressionare magari qualcuno un pochettino più debole, ma diciamo che qua l'intervento in linea di massima è durato circa due minuti, forse un massimo tre minuti per occhio. Quindi comunque un qualcosa di molto 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 veloce, ma a cui ovviamente bisogna prestare molta attenzione e seguire ovviamente tutte le indicazioni del dottore. Perché chiaramente io sono lì cosciente e il dottore magari diceva appunto di seguire la luce verde, la luce rossa, e comunque di avere veramente la massima concentrazione sull'obiettivo. Dato che è comunque un intervento molto delicato. Anche perché qua il chirurgo deve manualmente andare a rimuovere il flap, che consiste appunto nell'andare a sollevare il pezzo di corne che è stato tagliato, per poi appunto partire con il laser che è stato ovviamente setappato per il nostro occhio. Una volta fatto il laser, si mette il collirio e si fa lo stesso procedimento per appunto l'altro occhio. Una volta terminato l'intervento, che è andato tutto quanto per il meglio, mi hanno rilasciata, quindi sono tornata a casa. E una cosa che mi avevano consigliata era quella di stare appunto nella mia stanza completamente al buio, con le tapparelle chiuse, tende chiuse, perché ovviamente qualsiasi tipo di fonte di luce o comunque il sole tende a dare veramente tanto fastidio. Quindi mi sono messa appunto al buio nella mia stanzetta, ho cercato di dormire per circa due o tre orette e quando mi sono svegliata, ragazzi ve lo giuro, ero sconvolta dalla felicità di quanto io riuscissi già a vedere le cose nella mia stanza, appena operata da circa 3-4 ore, in una maniera così definita che io non ci potevo credere. Ho preso il telefono, ho chiamato mia madre, il mio padre, il mio fratello, per dirgli comunque dell'operazione, di come fosse andata, di quanto effettivamente già io stavo riuscendo a vedere le cose in maniera così bella, anche i colori. E quindi ragazzi è stata un'emozione, è una sensazione veramente indescrivibile. Chiaramente mi hanno rilasciato anche una terapia, mi hanno appunto dato questa borsettina con tutti i medicinali all'interno, ho dovuto prendere appunto un antibiotico, quindi un collirio, per appunto 10 giorni e poi mi hanno rilasciato anche delle lacrime artificiali che sono letteralmente fondamentali perché sono un tocca sano. Perché chiaramente dopo che si è effettuato l'intervento con il laser, l'occhio tende a essere molto secco. Quindi bisogna dargli una mano e umidificarla appunto con delle lacrime artificiali anche per dargli una mano a cicatrizzarsi molto più velocemente. E ogni volta che utilizzo le lacrime artificiali vedo sempre meglio perché ovviamente l'occhio ancora è un pochettino secco e quindi bisogna dargli una mano. Chiaramente il giorno dopo sono tornata in clinica per effettuare appunto un controllo e ragazzi non ve lo sto neanche a dire perché già dopo 24 ore io vedevo 12 decimi. Letteralmente come non avevo mai visto prima d'ora. Ho una sensazione incredibile. E adesso mi deve guardare qui. Va bene? Quella letterina è in fondo. Dunque, diciamo che guardiamo la riga di destra. Va bene, la B. L'ultima, sì. Apra, chiuda, mi dica cosa legge lì a destra. L-N V-R-O-B-B-N-K Apra, chiuda gli occhi. Adesso mi guarda questa riga qui e mi dice che legge qualche lettera di questa riga. Sono difficili queste. Ok, Z-G-O-K-N Ok, la O-N-S però queste qua sono 12 decimi. In ogni caso ragazzi siamo giunti al termine di questo video. Ovviamente spero che vi sia piaciuto e anche magari sia stato utile a darvi qualche informazione in più inerente comunque a questo tipo di operazione e facendovi vedere comunque il mio percorso che ho deciso di intraprendere. Io non potevo prendere scelta migliore di questa perché veramente sono strafelice e sono molto più felice di prima e tutto questo lo devo a Vista Vision per essere ovviamente affidata a loro e ai loro medici che mi hanno letteralmente aiutata al meglio a risolvere il mio problema di vista e ad eliminare definitivamente gli occhiali da vista che volevo togliere da non so quanti anni. E ora così sono letteralmente molto più libera e molto più felice. Quindi vi lascio tutti i link utili qui sotto in descrizione. Chiaramente ragazzi fatemi sapere anche qui sotto nei commenti se senza occhiali mi trovate più carina o insomma fatemelo sapere perché io in realtà così mi vedo molto più carina rispetto a quando avevo gli occhiali. E in realtà ho fatto l'operazione solo ed esclusivamente per comunque una motivazione di comodità e praticità e in realtà avevo paura di stare male senza occhiali. Invece mi sono ricreduta perché così mi piaccio anche molto di più quindi la mia autostima è salita un pochettino di più rispetto a prima quindi una doppia vittoria e una doppia felicità per me stessa. Vabbè in ogni caso fatemelo sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Noi chiaramente ragazzi vi chiamo in un prossimo video dalla vostra Croato Mist è tutto bella a tutti ragazzi. Grazie. 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 Grazie.